I tuoi amici d'infanzia sono tutti cresciuti ora? Sì, forte, amico! Ah, non puoi entrare! C'è un dress code! Niente vestiti eleganti! Ci penso io! Dove devo firmare? Grazie! Sei licenziato? Sono io il nuovo capo! Andiamo a divertirci! Ora si seguiranno le mie regole! Sembra che Lucy non si senta a suo agio in questa festa rumorosa! Andiamo a ballare! No, non voglio davvero! Per favore! Dai, non essere timida! No, non ballo! Andiamo! Fai così! Sì! Questa è strana! Non la conosco! Lucy ha spaventato tutti alla festa con le sue mosse! E niente può fermarla più! Sì, è di nuovo sbottonata la maglietta! I vostri drink? Non bere! C'è alcol! Portali via subito! Non puoi farlo! Perché? Ecco il vostro latte e i biscotti! Grazie! Ora puoi bere! Sono così buoni! Sei stanco, tesoro? È ora di andare a letto! L'influencer non mette mai giù il telefono nemmeno per un secondo! Due drink, per favore! Il vostro ordine! Grazie! Ehi ragazzi! Questo club organizza le feste più belle della città! C'è un cetriolo nel mio drink! Prenderò anche il tuo! Si può fare una moschera al cetriolo proprio alla festa! Scatto una foto per Instagram! Dove è andato? O che importa? La musica di questa festa sta chiaramente infastidendo la nostra ragazza rock! Ma come fai a ballare su questa musica? Andiamo a ballare! Cosa c'è che non va? Cambia musica? No! Ah sì? Bene! Ora sì che Callie si sta divertendo! Ma è l'unica che riesce a sopportare questo volume! E' pazza! Mi sta esplodendo la testa! La ragazza anime Lucy è fuori luogo in questo posto! Usciamo da qui! Unisciti a noi! È divertente! Ballare davanti alla TV chiaramente non interessa a Darnold! Vuole tornare alla festa! Ma Lucy lo adora! Che vuoi fare? Farti vedere un mal di gola? Troppo ghiaccio! Tieni! Ancora troppo freddo! Aspetta un attimo! Ora va bene! È disgustoso! Non ti ammalerai però! Non guardare! Non sei abbastanza grande! Però passionale! Perché a me! Sembra proprio che questa coppia si stia per dare il primo bacio! Solo sulla guancia! È una grande attrice! Sì! Organizza un incontro per domani! Ehi! Spegnelo durante il film! Di nuovo! È tutto! Per ora ho finito! Pronto? È per te! Sì! Ordinalo! E consegnalo al magazzino! Basta! Scusate! Sì? Sì! È il mio capo! Abbiamo seguito tutte le istruzioni! Il team è pronto per la presentazione! Questo grafico mostra l'aumento del reddito dell'azienda nell'ultimo trimestre! Ma poi ho pescado un pesce gigante! Proprio così! E poi l'ho quasi perso! E di qualcosa! Scusate, potete abbassare il tono? Non possono sentirti! Ci penso io! Zitti! Facci piano, piccola! Ve la siete cercata! Questi ragazzi non si aspettavano per niente di trovare una ragazza così tosta! Ora staranno sicuramente zitti fino alla fine del film! Oh, questo è un film fantastico! Perché non vediamo questo? No! Guardiamo invece un documentario! Questo è interessante! E questo è più informativo! Che fila lunga! Aspetta, no! Va bene! Non c'è nessuno qui per il film che ha scelto Lucy! Sembra proprio che questo ragazzo stia facendo un pisolino dall'ultima proiezione! Lucy sta prendendo appunti approfonditi e Arnold russa pacificamente accanto a lei! Appuntamento perfetto, vero? È stato così emozionante! Ho preso appunti! Sì, è stato fantastico! Questo film spacca! Vai a vederlo, non te ne pentirai! Oh! Guarda, sto per fare una diretta! Riprese illegali? Fuori! Filmami mentre vengo buttata fuori! Questo sarà cliccato un sacco di volte! Quando vai ad un appuntamento con una ragazza anime, aspettateli inaspettato! Salve, ecco il vostro menù! Non ne ho bisogno! Vorrei un unicorno! Non è nel menù! Per favore! Va bene! Che cosa prende lei? Questo hamburger! Perfetto! Questo è per lei? Il suo ordine! Ma che carino! Grazie! Devo fargli una foto! Vado a lavarmi le mani! Cosa sta succedendo? Oh, ciao! Ridammelo! Ma tu hai il tuo piatto! No, no! È troppo carino! Questa ragazza si prenderà cura di te proprio come tua madre! Ecco qua! Ora va molto meglio! Bello come il sole! Il suo hamburger... Oh, no! Non è salutare! Mangia un po' di insalata! Così non ti sparchi! Apri! Ehi! Avevi detto che non era salutare! Ti sto salvando dai carboidrati! Ciao! Sono in una nuova caffetteria! Prendo questo e questo! All'atmosfera è piacevole! Il caffè è ottimo! Sembra che questa influencer non stia dando alcuna attenzione al suo ragazzo! Come le parlo? Ecco il vostro ordine! Oh, devo postare questo! Ah, ne ho abbastanza! Dov'è finito? Oh, non importa! Siediti! Grazie! Benvenuti! Ecco il nostro menù! La studentessa Lucy non è abituata ad uscire e pensa che i prezzi qui siano da pazzi! Sto bene così! Non essere timida! Ordina qualcosa! No, solo dell'acqua! C'è così tanta roba qui! No, ho un'idea migliore! Panini fatti in casa! Bene! Ne prendo uno! Non potete portarvi roba da mangiare! Andatevene! Bella! Ti ho spaventato? Sei un po' buffo! Dov'è il cameriere? Mi scusi? Pollo? Per te? Sto bene così! Sei un po' annoioso! Dai, facciamo un braccio di ferro! Bam! Va tutto bene! È difficile battermi! Il vostro ordine? Questo è un uccellino? Volevo un pollo! Non si scherza con una ragazza dura! Arnold sta solo pensando a come scappare! Ne vuoi un po'? No, grazie! Una donna d'affari non può prendersi una pausa da un lavoro super importante nemmeno ad un appuntamento! Firmi anche qui! Scusa, è importante! E anche questo contratto! Grazie! Sì, sì, è una nuova filiale a Madrid! Cosa stai facendo? Basta! Dimentica il lavoro! Rilassati! Ok, va bene! Un menù per te e per te! Torno subito! Vendi lezioni a 8! Te l'avevo detto! Questo è il mio telefono! Scusi! Colpa mia! Non sono riuscita a trattenermi! Voglio rilevare la compagnia del mio rivale, ma ho bisogno del permesso ufficiale dei partner! Arnold si è accorto che non sta parlando con lui! Che cos'è? Scusa, un'ora in poi star attenta! Oh, devo rispondere! Ti è piaciuto il nuovo video? Premi iscriviti, metti like a questo video e clicca sul campanello! Non perdere nessuno spettacolare video di Woohoo o Emotion! Non perdere nessuno spettacolare video di Woohoo o Emotion! Non perdere nessuno spettacolare video di Woohoo o Emotion! Non perdere nessuno spettacolare video di Woohoo o Emotion! Grazie a tutti.